Questo sono io, forse vi starete chiedendo cosa io stia facendo, sto aspettando una sorpresa, gioco a musca cieca No, avete letto tutti il titolo del video? Ebbene sì, sto facendo una cosa piuttosto intelligente Ok, per così si è capito insomma che, come posso dire, io, beh, sono scemo Vi era venuta voglia di riprendere qualche gioco che avevo lasciato in sospeso, no? Se avete visto i miei vecchi video sull'anno sogno sia, video ludica, che insomma ho il bisogno fisico di finire i giochi che inizio, ok? E boom, eccolo lì, Dark Souls 2, per carità, ci avevo già giocato, eh? Ma questa è la versione per PlayStation 4, che è proprio un gioco diverso rispetto a quello della vecchia generazione, giusto? Che c'è, che c'è, non vedete differenze? Nemmeno io, ma shh, ed è mentre lo fissavo che ho partorito quest'idea folle Giocare a Dark Souls bendato Ora vi racconto com'è andata Beh, l'idea era semplice, sulla carta almeno Conoscete Dark Souls 2? L'introduzione del gioco inizia qui, nella cosiddetta via di passaggio E finisce a Magiula, il luogo in cui effettivamente il gioco inizia Ed ecco l'obiettivo che mi ho prefissato, ovvero quello di percorrere tutto questo tragitto bendato Inumano, direte voi E avete ragione Ma io non sono umano, giusto? Quindi niente, mi preparo psicologicamente e avvio il gioco Ah, ed eccoci qua Oh cielo, cosa sto per fare della mia vita? Ma perché mi infilo sempre in queste cose? E ok, siamo pronti Ok, il piano era semplice Non avendo nessuno che mi dicesse dove andare, cosa fare Prima di registrare questo video, ho mentalmente memorizzato tutto il percorso Memorizzando soprattutto i suoni Così da farmi un'idea di dove fossi O se nel caso, soprattutto Mi fossi incastrato in qualche parete Cioè, notate la mia follia In quel caso, ho notato Che i passi prendevano un ritmo particolare Tipo, tipo swing, senti qua Cioè, insomma L'audio era il mio miglior amico Ok, ok, sono pronto Premendo l'analogico destro posso centrare la telecamera Così almeno all'inizio, che ne so, sono dritto Ok Ok, allora Aiuto Iniziamo andando dritti Ok, ecco, vedi Infatti qua sento i cambi di pavimento Dall'erba al terreno Dall'erba al terreno Oddio, già Oddio, già ho perso la percezione di dove sono Aiuto Andiamo dritti, dai Che era? Sento qualcosa Aiutatemi Dai, almeno per la prima volta Proviamo ad andare sempre dritti Ok, così capiamo almeno Che era? Ho spostato qualcosa? Allora, se non erro Sti suoni dovrebbero essere tipo quella specie di scimmie Non mi ricordo Quindi dovrei essere vicino la casa delle vecchie lì Qualcosa mi dice che mi sono bloccato Non sento più i miei passi Ok, proviamo Proviamo oltra a sinistra Ok No, ok Mi sa che mi sono bloccato di nuovo Eeeh, ma dovevo Vole a beccare il piccoletto Oh, oh Aspetta Non sento più l'erba Ok, sto andando bene Mi sa Sì, sì, sì Ok, ok Mi ricordo, mi ricordo So suono E i sassi Sono prima della casa E infatti Alla sinistra sento la cascata Quindi teoricamente Devo andare avanti Lo raggiungo Qualcosa mi dice che sono morto Aspetta Però, addio Aspetta Perché sono caduto, mo? Cacchio, il ponte Il ponte prima della casa Eeeh Ma come lo centro, mo? Oddio Vuoi rifarmi tutta la strada Ok, ci sono Aspetta Sono tornato qui Adesso sento i sassi Mo Se vado dritto Schiatto Ho capito, ok? Quindi, mo Mi sposto a sinistra Mi scatto sul muro Ok Ok, aspetta Sento la cascata Ma non ne passi Aspetta Un po' più a destra Oh, oh Sento il legno Sento il legno Ok, ci sono Ci sono Ok, ok, ok Ok, sento la terra Quindi davanti a me dovrebbe Tipo esserci la casa Oddio Sulla mia destra Dovrebbe esserci la scala Quindi non devo fare altro Che Insomma, prendere una curva Non troppo larga E mi trovo Da te la porta Tipo Che è successo Oddio Panico Panico Aiuto Sono rovinato No, dove sto mo Che succede? Mo che faccio? Giro attorno Ed è qui, cari miei Che iniziò La parte davvero frustrante Di questo esperimento Sono stato Ore A cercare di salire Su quel porticato Ho fatto dei giri assurdi Fino a che? Oh Oh Aspetta Aspetta Sento le scale Sento le scale Ce l'ho fatta Non ci posso credere Voglio piangere E non sono manco a metà strada Madò Quindi niente Arrivato dalle vecchie Dovevo creare il mio personaggio No? E quindi niente Gli do il nome perfetto Per un avventuriero Con seri problemi Come classe Scelgo il cavaliere Perché ok Essere ciechi Ma perché Almeno un'arma Vi prego Datemela Gli metto gli occhi Che si merita E Boh Che è avatar Che è l'ultimo dominatore dell'aria Che succede? Ok L'obiettivo ora Con calma È salire al piano di sopra E aprire il forziere Ce la faremo? Guarda Mezzecco il muro Prima o poi la trovo la scala Guarda Oh Trovata Aspetta Aspetta Ok Dovrei essere sopra Ma guarda Vado in giro Spammo X Prima o poi lo apro Giusto dai Guarda qui Che campione Ti prego basta Non voglio morire Passo i successivi Letteralmente 30 minuti Nel tentativo di uscire Da sto schifo Di canapecchia Accendere il primo falò Ed entrare Nella prima nebbia E stranamente Ce la faccio Ed è qui che inizio a sentire Un suono terribile Ebbene sì Cari miei Il primo nemico La mia tecnica per combattere Doveva essere semplice Sarebbe stata tipo La perfetta fusione Di due stili di combattimento Numero uno Attaccare appena avrei sentito Che qualcuno mi aveva colpito Numero due Farsi prendere dal panico E attaccare completamente a caso Beh dai Mi attacca funzionato Mi stavo fomentando troppo Cioè L'esperimento stava davvero funzionando Poi però Boh Ho sbagliato strada Convinto che si sia andando avanti Passo ore In quei tunnel Ma alla fine Esco Fermo Che sento l'erba Sono uscito qua No vabbè che anzi Che mi viene a guardare questi clip Guarda quanto era arrivato Allora A modo dovrebbe esserci Tipo la salita Sinistra Con il tipo Il mostro Guarda Attenzione Quindi niente Dopo aver percorso la salita Con le gengive Spiaccicate la parete Affronto il primo arciere E lì Il panico Oggi un arciere L'arciere no 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 A caso dai Oh Ah Ce l'ho fatta Guarda Per non sapere ne leggere Ne scrivere Io Mi curerei E poi contro la mia stessa aspettativa Divento praticamente Sherlock Holmes Allora In questa parte Davanti a me dovrebbe esserci Tipo un dilupo Quindi io Ho mischiatto con la faccia a sinistra E se proseguo Dovrei sentire E Ecco E Il nido Ma do Quanto so forte Quindi vado a destra Spammando X E dovrei sentire La scala La scala Sì Mamma mia Quanto so forte Madonna Spesso tutto eccitato Quindi ok Centro la telecamera Così se vado dritto Dovrei raggiungere La fine del dungeon Beh Dai La fine in qualche modo L'ho raggiunta Dopo ore No Che dico ore Secoli A ripercorrere L'intero livello Vedo la luce No No non ci credo Ma Giulia Ce l'ho fatta Ti sento Ti sento Che bel suono Madonna Non la vedo Ma posso sentire Il calore del sole E mo Come lo raggiungo Il falò Esatto Il falò Il falò È lì A due passi Piccolo spoiler Saranno i due passi Più lunghi Della mia vita Guarda lì Che campione Guarda Guarda quanto ci crede Guarda Ok Aiuto Mi sa Mi sa che sono arrivato Spammo Spammo X Magari Magari lo accendo a caso Non lo so Falò Falò Non lo trovo Aspetta Che ho preso mo Dove sono Ebbene Sì ragazzi Quel falò È stata La mia rovina Dai Vi prego Basta Non ce la faccio più Sono arrivati fino a qui Dovrebbe essere qui Da qualche parte Ok Fermi Allora Verso destra Dovrei trovarlo Lo sto spammando Lo sto spammando X Come un canno Non potete capire quanto Ma per quanto L'ho mancato Io non ho parole E vabbè Come poteva finire Secondo voi Basta Mi prego Basta Dai Mi prego È qui È qui Lo sento Che scricchio Da quel falò Cioè dai I miei calcoli Non possono essere Così sbagliati Ed eccoli lì Le mie anime Sarebbero state Proprio loro A portarmi al successo Che poi Cioè Perché no È proprio la sintesi perfetta Di Dark Souls Muori 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 Fin quando È il tuo fallimento stesso A farti capire Come vincere Oh Oh Aspetta Sono le mie anime Ok le ho raccolte Quindi Aspetta Quindi ho il burrone Davanti a me Ok Quindi tipo Vado indietro E lo trovo Ok Non sento niente Quindi a sinistra Madonna Ci sto girando attorno Me lo sento No No Non ci credo Non ci credo Non ci credo ce l'ho fatta Non ci credo ce l'ho fatta Voglio piangere Che bello Ci vedo Ci vedo È bellissimo Vedere Vedo luoghi mai esplorati prima Sto guardando luoghi Che non avevo mai visto prima È bellissimo La luce Signorina C'è pure lei Ah scusi Non volevo Voi Credevate che non ce l'avrei mai fatta Vero? Misgradenti Sia ringrazia del gelo Oddio non ci posso credere Ok qualcosa mi dice che Qui 2000 morti Almeno Siano tutte mie No so Guarda questo presentimento Bene ragazzi Ce l'abbiamo fatta È stata una tortura Io non voglio rifarlo mai più Se il video vi è piaciuto Lasciate un like Ed iscrivetevi Magari condividetelo anche con qualcuno Avete visto Edoardo fa cose? Io Sono Edoardo E noi Ci rivediamo ad un prossimo video Magari Che sia leggermente più sano di mente Grazie Che voglio prendere in giro Ciao